Cara Romagna Amici carissimi, tanti ma tanti, baci a tutti voi che siete lì e mi state guardando, ciao, state bene, mi auguro proprio di sì. Allora, mezz'ora di trasmissione in compagnia di Fiorella Casadei, in compagnia di Rete 8 VGA Telerimini e allora mezz'ora di buona musica, Romagnola, ole, come tutti ti fanno ole, avremo una bella mazzurca, avremo una polca, avremo un valzer, insomma mezz'ora non è tanta cosa, cioè non abbiamo tanto tempo a disposizione, ma riusciamo a fare già parecchio in questa mezz'oretta, quattro brani, quindi veramente vi diamo una spinta di energia, una carica di energia, sì, meglio di una flebo, meglio di un ricostituente intramuscolare. Romagna Romantica vi tira su il morale, il morale. E allora, tra pochi istanti andremo con un valzer del maestro Vittorio Borghese, un bellissimo valzer, dal titolo Cuore Romagnolo. Preparatevi a ballarlo perché questo è veramente molto bello e saremo in compagnia di Ricordo Romagnolo. Adesso partiamo con i primi tre segni e sapete che partiamo sempre dalla riete per poi andare con il toro e proseguire con i gemelli. Allora, inizio, trasmissione, cuore romagnolo, valzer. E allora, a riete, il tuo mantra del mese è niente quello che sembra. Se rimani sulla superficie delle cose e delle persone, rischi di non ricavarne nulla di utile. Se invece vai in profondità, sotto, sotto, sotto e dai una seconda occhiata, potresti trovare degli autentici tesori. Quindi rallenta anche se la tentazione è quella di correre. Il mio consiglio, il consiglio delle stelle, ovviamente regala, puntini puntini, la tua capacità alchemica di trasformare le difficoltà in possibilità. Toro, la vita di coppio, la vita due, non vi dà preoccupazioni particolari, anzi, state investendo bene in termini di affetto ed energia nella vostra storia. Ai singoli, alle persone, diciamo, sole, quelli che non hanno un compagno, una compagna, eh, beh, quelli. Ai singoli invece piace essere sfuggenti e anche misteriosi. E probabilmente, però, solo la voglia, la voglia di essere desiderati. La salute, OK. Gemelli, il vostro segno è dominato da Mercurio, che vi rende un vulcano di idee e vi regala l'astuzia e la creatività necessarie per attuarle. Allora, per l'amore, negli ultimi tempi vi ha fatto un po' soffrire, ma sta arrivando il momento della riscossa. Salute e forma fisica discreta. In miglioramento, oh, allora, la salute è in miglioramento, la forma fisica è in miglioramento, quindi tra pochi giorni sarete al massimo, sarete pieni di energie e starete da Dio. Oh, cuore romagnolo è uno dei tanti waltzer stupendi del maestro Vittorio Borghesi. Allora, noi insieme, virtualmente, questo lo sapete, ci trasferiamo all'Arena Folca, a Serravalle di San Marino, questa sala polivalente, ecco, dove tutti i mercoledì, se voi andate, troverete il ricordo romagnolo, l'orchestra che tra poco vedrete sul teleschermo. E in quella serata, il mercoledì sera, ragazzi, 3-4 ore, di musica prettamente lisciaiola, sì, e musica prettamente dal vivo. Quindi, se volete andarci, beh, andateci, trascorrerete una serata veramente straordinaria. Cuore romagnolo, non posso non indirizzarlo, ai cari amici Enrico Elella del Bianco, di Riccione e Luciano e Franco Moretti. Ciao amici, adesso, cuore romagnolo! Amici, adesso, cuore romagnolo! Amici, adesso. Amici, adesso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti gli allievi delle sirene danzanti, siete veramente straordinari. Ciao, in bocca al lupo a tutti e adesso magnifica coppia musica di Siro. Grazie a tutti. 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 e adesso pubblicità. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.